Un frastanco che adesso è in cielo e lui ha scritto l'ino di Međugorje, siamo venuti madre cara. Una sera dopo la Santa Messa, le sorelle della Vegenza Vizcana e Maria sono andate a cantare nel coro della parrocchia. Però Vizca non era presente in questo coro, però quella sera doveva attenderli davanti alla chiesa per poter tornare tutti insieme nella casa. Allora vuole dirci che quella sera è entrata anche lei dentro la chiesa per sentire come cantavano loro perché voleva provare a cantare anche lei. Loro cantavano così bene che Vizca si è sentita proprio di partecipare con il cuore, con le loro canzoni. E quando hanno finito quella sera di cantare si preparavano per andare a casa, però il frate ha chiamato le due sorelle, gli ha detto Maria Anna, rimanete un po' qua. Non avete drugi, poi dovete vizca. Per favore, prossima volta non portatevi. Ma Kat Vizca si sapeva con un trattore, se uno può fare ciò mi potremmo. Perché vedete, noi ci diamo tanto da fare, ma quando canta Vizca sembra un trattore e rovina tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Dovremmo scegliere senza posarci. Allora la Vegenza Vizca... Allora la Vegenza Vizca...